Inaugurato a Sassano un nuovo punto d'incontro frutto anche della riqualificazione di un'area che risultava essere anche pericolosa. Sabato scorso taglio del nastro della nuova terrazza sul corso. Dopo un lungo periodo di attesa a causa anche della lungaggine burocratica che anche in questo caso ha paralizzato i lavori di abbattimento di un vecchio edificio pericolante e di creazione della piazzetta, finalmente la comunità del centro storico di Sassano sabato scorso ha potuto partecipare all'evento di presentazione dei lavori di rifacimento dell'area. Dall'edificio ne è stato tratto un piazzale adibito a terrazza che affaccia a soccorso Umberto I. L'ampio spazio è stato inoltre reso fruibile con l'installazione di panchine e aree verdi, il tutto realizzato nel rispetto delle normative di tutela della storicità del luogo. Ad abbellire ulteriormente l'area è un imponente murales che racconta scorci del centro storico sassanese ed in particolare raffigura la chiesa della Madonna del Carmine che si può ammirare dalla terrazza oltre che dal murales diventando così protagonista assoluta del luogo. Sabato scorso quindi il taglio del nastro da parte del sindaco Tommaso Pellegrino con una folta rappresentanza dell'amministrazione comunale e la successiva benedizione della targa da parte del parroco Donotello Russo. A seguire un ricco buffet la cui realizzazione è stata curata dagli abitanti del posto. Una riqualificazione urbana importante, significativa con il racconto della storia, con la realizzazione dei murales per riqualificare i nostri luoghi. Io penso che i murales raccontano quella che è una comunità, raccontano quella che è la storia di una comunità e qui c'è veramente un'opera concreta, un'opera utile per la gente, un luogo di aggregazione. L'abbiamo voluto chiamare terrazza sul corso perché è appunto una vera e propria terrazza sul corso principale di Sassano. E voglio ricordare che prima qui c'era una struttura pericolante, qui c'era una struttura transennata e ogni volta diventava veramente per noi un colpo al cuore vedere questa nel pieno centro storico, nel pieno corso, trovare una struttura transennata che rappresentava un pericolo per tutti i tanti bambini che molte volte giocavano anche qui nel corso. Ecco, oggi siamo contenti, abbiamo creato una condizione di sicurezza, abbiamo creato delle condizioni di bellezza, abbiamo creato delle condizioni per le famiglie un luogo dove possono aggregarsi, dove possono comunicare, dove i bambini possono giocare, quindi siamo veramente contenti.